Ciao a tutti, oggi mi è arrivato questo pacco e non ho resistito e l'ho aperto, ma vi voglio far vedere quello che Simone di creativamenteplotter.it mi ha mandato ed è un materiale bellissimo che poi farò i video, ma ora ve lo faccio vedere, grazie Simone. Allora, nel pacco c'era questo tipo di foglio qua che è un foglio di sughero, molto bello, l'ho aperto, vedete sono piccoli fogli e sono adesivi, qui ci si potrebbe fare anche delle scritte, ci si potrebbe fare qualsiasi cosa, vedete ed è molto bello, scusate ma c'è il mio gatto che si può far riprendere, poi c'era questo tipo di materiale qua, questo tipo di materiale qua, ed è una vinpelle, ehi Jerry, ora ve lo faccio vedere, è molto bello, vedete, così, ce n'è uno nero, no, uno chiaro, sembra quasi rosa, antico, poi ce n'è uno nero e uno bianco, e questo si fanno, questo tipo di mappine qua, non so se si vedono, quelle che si mettono nelle borse, oppure anche come porta chiave, poi c'era questa scatola, e dentro c'è il kit per realizzare volendo anche questo, ma si può realizzare qualsiasi cosa, o una lavagnetta, con scritto le cose che mancano, oppure questo menù e i giorni della settimana, vi faccio vedere quello che troviamo dentro, dentro avremo questo cartoncino qui che è sempre lavagna, è ruvida anche, e poi abbiamo anche il vinile effetto lavagna, poi c'è un pen holder, questo serve per mettere le nostre penne e per scrivere senza usare le stress pen, io ne ho già due ma è molto utile, io lo consiglio, poi abbiamo la solita card con 10 disegni, abbiamo il temperino, fare la punta ai nostri gessetti, questi sono i gessetti, vedete che si scrive qua, non so se si vede lo scritto, vedete? E qui abbiamo la spugna da cancellare, ed ecco qua che è stato cancellato, vediamo quello che riusciamo a realizzare con questo tipo di materiale, ma vi garantisco che è bello proprio, poi c'era anche quest'altra scatola, e questo è il kit per crearci gioielli, braccialetto con il nostro nome o anche fiori, quello che vogliamo mettere come ciondolino diciamo, e questo è un tipo di materiale per me è molto bello, io lo usavo anche prima ed è, si chiamava poliscreen e questo fa la stessa funzione, ora vi faccio vedere quello che troviamo dentro, dentro abbiamo i fogli di poliscreen, questo è un materiale, qui ce n'è bianco e anche trasparente, scusate mi ero dimenticata di dirlo, è un materiale che si disegna, poi viene tagliato il pezzo diciamo grande, come vogliamo fare il nostro ciondolo, poi con il lit gun, ovvero il fonda embosser, si riscalda e questo viene gonfiato e ristretto, si restringe diciamo di circa 3 quarti, quindi da uno così grande poi viene piccolo, poi vi faccio vedere nel video e vi spiego tutto. poi nella scatola troviamo questi che sono, Gerry vai giù dai, scusate ma il mio gatto oggi vuole le coccole, ehi Fendi, troviamo questo che ci sono da creare 2-3 braccialettini e una collanina, in più c'è la pinzetta per chiudere i nostri gancini, vedete? e abbiamo la solita card con 10 disegni, bellissimo, anche questo materiale, poi farò il video anche di questo, e ci creeremo i nostri gioielli. bene, io spero di avervi fatto piacere a farvi vedere questo materiale, l'ho voluto condividere con voi perché sono veramente entusiasta, infatti non vedo l'ora di fare il video, spero come ho detto che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao! ciao!